3 giorni alla scoperta della ceramica artistica italiana, nasce Buongiorno Ceramica, l'iniziativa che dal 29 al 31 maggio ha coinvolto 37 comuni del nostro paese per divulgare e rilanciare l'arte antica dei ceramisti italiani. In questa prima edizione il Borgo di Deruta, uno dei 37 comuni insegnati del prestigioso marchio CAT di ceramica artistica tradizionale si è trasformato in un laboratorio all'aperto con performance dal vivo, esposizioni ed incontri con pittori e scultori. Buongiorno Ceramica è un buongiorno, ci auguriamo che questo buongiorno si estenda al mondo del lavoro e dell'occupazione soprattutto a vicini, appassionati di ceramica e i giovani che vogliono prendere questa attività come esempio e proseguirla negli anni come nei secoli ha avuto riferimento e ha prodotto nel nostro territorio ricchezza, benessere, diffuso. Anche le scuole d'arte sono state coinvolte, come il liceo artistico Alpinolo Magnini che ha realizzato una mostra ispirata da Alberto Burri. Abbiamo voluto iniziare questa Kermess di tre giorni mettendo al centro la scuola, il liceo artistico Alpinolo Magnini che secondo il nostro avviso è il cuore naturalmente della ripartenza culturale del sistema scolastico. La giornata si è aperta con l'iniziativa Soracqua in cui artisti e artigiani insieme hanno lavorato alla realizzazione di un'opera collettiva. È un tributo a San Francesco, quindi al Cantico delle Creature e un tributo all'acqua che è un bene preziosissimo, quindi artisti, artigiani insieme a dipingere e a creare questo grande murales in ceramica dedicato a Francesco e all'acqua. Siamo in tema di Expo, quindi proprio l'acqua è vita. Tra i momenti salienti del programma, la performance di tre artisti ceramisti che nel chiostro di San Francesco hanno realizzato opere scultore dal vivo. Deruta è uno dei paesi migliori che può esistere per far toccare l'arte in qualsiasi passo che uno viene qua. Grande partecipazione di pubblico anche alla mostra di Terra in Terra, curata da Domenico Iaracà all'interno del Museo Regionale della Ceramica. Non si tratta di una mostra soltanto collegata a capacità tecniche, ma una mostra con cui si prendono anche delle posizioni se vogliono esprimere le proprie ricerche artistiche, la propria posizione anche per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, come per esempio l'opera di Sofia Rocchetti in cui si condanna la violenza sulla donna, la violenza sull'ambiente. A concludere la giornata è stata la personale di Sauro Cardinali, allestita all'interno della Gallery House Free Mocco. Tengo a sottolineare il significato della parola Mocco che è in dialetto derutese l'argilla che viene utilizzata dal ceramista. Grazie a tutti!